hanno avviato uno dei più grandi processi di mobilità della storia del nostro Paese e si tratta di un processo complesso non soltanto per il numero delle persone che vengono coinvolte ma anche perché coinvolge tutti i livelli istituzionali indicati nell'articolo 114 della Costituzione. Quindi è necessario avere una massima cura, una massima determinazione nel guidare tutti i passaggi che sono necessari per la piena attuazione. All'inizio di quest'anno, proprio di intesa con tutte le amministrazioni territoriali al Dipartimento per gli Affari Regionali sono state predisposte delle dettagliate linee guida per le amministrazioni interessate ed è di prossima pubblicazione sulla gazzetta ufficiale il DPCM del 26 giugno 2015 con il quale sono state definite per la prima volta nella storia della Repubblica italiana le cosiddette tabelli di equiparazione che sono lo strumento attraverso il quale si può spostare il personale di un livello istituzionale presso altri livelli istituzionali definendo prima l'inquadramento e la retribuzione. Senza dubbio la ricollocazione del personale in soprannumero è più facile nelle regioni che hanno approvato le leggi regionali la Toscana è una di queste. Noi in alcuni casi abbiamo trovato massima collaborazione, in altri questa collaborazione non l'abbiamo avuta. Ricordo che due regioni hanno prima impugnato la legge 56, poi hanno impugnato anche la circolare a cui prima faceva riferimento. In ogni caso, anche per le regioni che dovessero presentare ulteriori ritardi, i criteri di mobilità sono stati definiti con il decreto ministeriale 14 settembre 2015, attualmente in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti. Anche qui il ritardo nell'emanazione del decreto è anche dovuto alla mancata intesa che la Regione Veneto ha voluto dare in conferenza unificata che ha prorogato, ha prolungato di ulteriori 45 giorni la firma e l'emanazione dello stesso decreto che attualmente è alla registrazione della Corte dei Conti. Per quanto riguarda le domande specifiche, ricordiamoci che la legge 56 prevede che il personale segua le funzioni. Quindi una parte del personale resterà ancorato alle nuove province, una parte seguirà le funzioni come stabilito dalla legge regionale, la parte restante sarà riallocata secondo le capienze che saranno individuate nei comuni, nelle regioni e nelle amministrazioni centrali. Il numero esatto dei dipendenti coinvolti potremmo averlo soltanto dopo che le province avranno inserito nel portale gli elenchi delle persone che verranno dichiarate in soprannumero. Fino a quel momento possiamo fare soltanto delle stime ma non abbiamo l'indicazione esatta. Al termine della procedura che definisce quindi l'offerta di mobilità, il Dipartimento della Funzione Pubblica provvederà a pubblicare sul portale tutti i posti che si sono resi disponibili al netto, quindi di quelli che sono stati già riallocati in funzione delle leggi regionali, nelle regioni, negli enti locali e nelle amministrazioni centrali. I posti saranno riferiti a ciascuna regione, distinti per funzione, categoria, inquadramento e suddivisi per provincia, comune, capoluogo di regione e per il Comune di Roma, perché c'è una disposizione particolare avendo Roma la sede del Governo. Confermiamo, e questo riguarda un'altra esplicita domanda che lei faceva nell'interpellanza, che l'attuazione delle disposizioni del decreto sulla mobilità garantirà la piena tutela degli attuali livelli occupazionali dei dipendenti degli enti di Reavasta. È fondamentale che le regioni e gli stessi enti di Reavasta adottino tutti gli atti di rispettiva competenza entro i termini previsti dallo stesso decreto. In conclusione, il nuovo cronoprogramma, che è stato rivisto in funzione delle modifiche normative intervenute, con particolare riferimento al DL78, appare coerente con il termine finale del 31 dicembre 2016, quindi si conferma l'arco temporale complessivo all'interno del quale alcuni termini sono stati rivisti proprio in funzione delle necessità che si sono create sia sui territori e sia delle nuove disposizioni che sono state emanate. Grazie. Grazie a lei. L'onorevole Cini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il sottosegretario perché nella sua sintetica, diciamo, replica è stato molto chiaro e mi auguro davvero che gli intenti che lui ha manifestato siano concretizzabili e si concretizzino nei tempi previsti. Io personalmente non sono mai stata una, diciamo, una convintissima sostenitrice del percorso che è stato interpreso, ma sicuramente della necessità di un riordino da operare nel sistema degli enti locali, anche eventualmente con il superamento delle province. Io credo che fosse necessario partire, credo che giustamente strada facendo probabilmente si aggiusteranno alcune cose, mi auguro che questo avvenga. Lei ha detto una cosa molto importante, la legge fin dall'inizio stabilisce che il personale seguele.